Salve a tutti ragazzi sto facendo un video così per aggiornarvi su un po' di cose perchè nei ultimi giorni sono cesse diverse cose in pratica aggiornamento 1 è che ci hanno dato la partnership TGN ci ha dato la partnership quindi per questo motivo adesso vedrete un pochino di pubblicità così nei video e finalmente potremmo guadagnare un pochino di soldini anche noi per questo motivo io ho preso un microfono nuovo e darò il mio a Mattia così almeno sentete un pochino meno di fruscio nei video che da sempre un po' fastidio e terza cosa ho deciso che se e quando arriveremo a 2000 iscritti faremo dei live stream poi il giorno sarà da decidere e ultima cosa abbiamo abbiamo attivato un sito un dominio obsidianpunchers.it adesso è al momento in costruzione quindi ancora non si sa cioè non sappiamo quando lo finiremo però diciamo che è in progettazione se volete darci un'occhiata ogni tanto per vedere quando quando sarà attivo e dire che con gli aggiornamenti ho finito vi ringrazio a tutti tutti quelli che sono iscritti anche tutti quelli che ancora si devono iscrivere lo faranno sicuramente e grazie per il vostro supporto siete molto importanti guardate video commentate mettete mi piace e iscrivetevi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti